Che ha detto? Ok, prossimo, prossimo, prossimo! Finita, 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 ok? Vai salto, vai salto! Ok, tiriamo, c'entrano, con c'è! Finiamo, 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 un po' c'è avanti, tu! Vuoi provare a fare un po' di recensione? Ok, prossimo, prossimo! Si sporca, mamma mia! Piccolo, vuoi provare tu? Sì, o no? Sì, o no? Ok, vieni, dai! C'è, c'è! Ah, è molto rock la cosa! È nato il Brick in the World! Vieni Attentato, vieni, dai! T'è! T'è, vai avanti! Allora, vieni! Vieni, sono tornnato! Vieni, sono tornnato! Vieni, sono tornnato! Vieni, sono tornnato! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! Vieni! Corri, 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 corri! Corri, corri, corri!